Come vengono intensificati i rapporti interregionali con il resto d'Italia grazie a questo progetto? Innanzitutto con la cultura. La cultura è un veicolo importante che unisce e lega tutte le regioni d'Italia. Noi abbiamo a Roma diverse associazioni regionali che svolgono egregiamente il loro ruolo. Il nostro compito e la nostra funzione è proprio quella di mettere insieme in sinergia le diverse associazioni regionali per fare in modo che dalla sinergia cresca il rapporto culturale tra le varie regioni stesse. Roma è composta, come le diceva, l'80% di persone che provengono da altre regioni d'Italia. Quindi la valorizzazione delle identità regionali è qualcosa di importante per riscoprire la propria identità e promuovere il territorio da cui si proviene. L'Italia, si è detto, ha un patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico immenso. Le associazioni, questa delega, oggi io sono in veste di delegato del sindaco Alemanno proprio ai rapporti con le comunità regionali, mira proprio a promuovere i singoli territori, a promuovere le persone che provengono da tutte le parti d'Italia. Perché Roma ospita una madre amorevole che ospita ed accoglie tutti i cittadini che provengono da tutte le parti d'Italia. Quindi ci sembrava doveroso restituire in parte quello che le altre persone e Roma fa nei confronti di queste persone e le persone arricchiscono ovviamente. Quindi c'è un rapporto sinergico tra le regioni d'Italia e Roma capitale. Quindi noi con questa delega abbiamo voluto valorizzare questo rapporto sinergico. Grazie. 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 Grazie.